Buongiorno a tutti da Asfaltica Verona, sono Tiziano Berossi e vi volevo presentare un attimo la nuova fresa 1300-35 della BOMAG. BOMAG ha rinnovato tutta la linea delle frese d'asfalto dalla 50 cm alla 2 m. Oggi noi qui vediamo una BM 1300-35, macchina molto compatta adatta per i lavori cittadini e anche per i lavori di grosse produzioni. La macchina è stata bene o male riconfigurata un pochino pensando molto a quello che è il discorso della comodità di guida dell'operatore. È l'unica macchina con la possibilità di utilizzo completamente da seduti dove abbiamo una visibilità meravigliosa sia per il carico del materiale, sia per il filo del lavoro, sia per una visibilità completa del cantiere. La macchina è stata riprogettata anche il sistema della colonna destra di rientro che permette il filo muro, è una colonna particolarmente solida, un progetto nuovo, tant'è che BOMAG lo garantisce 5.000 ore o 5 anni nell'utilizzo. La macchina è dotata di tutti i sistemi che servono per il lavoro quotidiano, per l'impiego dove appunto questa macchina deve lavorare, nuovo tamburo su disegno BOMAG, brevetto BOMAG e con portadenti per l'innesto rapido e un suo vano sotto la scaletta dove posizionare tutti quanti gli utensili di ricambio per la giornata di lavoro, per avere tutto comodo e a portata di mano. Questa macchina qui oggi ha tutti i vani delle operazioni quotidiane di rabbocco, del gasolio, della di blu, tutti a portata di uomo, di braccio, senza dover aprire cofini, senza dover stare a fare operazioni complicate, la macchina ha già tutti i suoi divani molto comodi, inoltre la macchina è dotata di un nastro attualmente aperto per il carico del materiale, ma pieghevole idraulicamente con un sistema di abbattimento polveri, questo sistema permette di lavorare molto agevolmente in zone anche cittadine senza creare polverosità per un ambiente più salvo sia del cantiere che dell'operatore stesso.